si è accesa? eh sì, sta filmando, questo era scritto no SD, sì sì, ma sta filmando? ora si è in rec 6 secondi ok andiamo! Sì non male tutto a posto tutto a posto funziona cambio funziona raga l'avete documentata l'ho visto da lontano l'ho visto il mio scuole non male io sono bello porco dio ma devi mettere a posto stai 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 stai